Se tu ti senti lontano da Dio, ma per favore avvicinati al suo popolo, che ti guarirà dalle ideologie che ti hanno intiepedito il fervore. Quando la gente dice di un sacerdote che è vicino, di solito fa risaltare due cose. La prima, che c'è sempre, contrario del non c'è mai. Lo so, padre, che lei è molto occupato, dicono spesso. E l'altra cosa è che sa trovare una parola per ognuno. Parla con tutti, dice la gente, con i grandi, con i piccoli, con i poveri, con quelli che non credono. Pretti vicini che ci sono, che parlano con tutti. Pretti di strada. Bisogna stare attenti a non cadere nella tentazione di farsi idoli di alcune verità astratte. Sono idoli comodi, eh? A portata di mano, che danno un certo prestigio e potere e sono difficili da riconoscere. Perché la verità idolo si mimetizza, usa le parole evangeliche come un vestito, ma non permette che le si tocchi il cuore. E ciò che è molto peggio allontana la gente semplice dalla vicinanza risanatrice della parola e dei sacramenti di Gesù. Grazie. 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 Grazie.